Cari figli e figli di Dio che potranno ascoltare questa preghiera, ho avuto l'ispirazione a fare questa preghiera proprio per esterminare il coronavirus così come virus nocivo all'uomo. Adesso io farò una preghiera proprio per esterminare il coronavirus metterò l'intenzione che questa preghiera chiunque l'ascolti se vuole la può applicare a se stesso, ai suoi possibili cari, ai suoi possibili possedimenti, alla casa, a qualunque cosa gli potrebbe appartenere affinché da tutto quello che gli può appartenere vada via il coronavirus e non possa in nessun modo essere presente e non possa più tornare. Quindi metto l'intenzione che se questa cosa anche l'ascolteranno ancora fra un mese, se ci fosse ancora bisogno, questa preghiera proprio abbia l'intenzione di esterminare e di essere proprio valida anche per chiunque la potrebbe ascoltare e ritiene di volerla fare e di poterne avere bisogno. Vi invito, se tu stai ascoltando adesso questa preghiera, io la dico e tu ripetila proprio con me applicandola a quelle che possono essere magari, che ne so, i tuoi cari o magari possibilmente la tua casa, quello che in qualche modo ti può appartenere. Allora, prima di tutto chiediamo a Dio che ci doni la protezione assoluta da ogni male perché questa è una preghiera fatta con serietà e seriamente, quindi diciamo proprio insieme Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, San Giuseppe prega per noi, San Giovanni Battista prega per noi, Santi Patriarchi e Profeti pregate per noi, Santi Pietro e Paolo pregate per noi, Santi Apostoli ed Evangelisti pregate per noi, Santi Discepoli del Signore pregate per noi, Santi Michele, Gabriele e Raffaele pregate per noi, Santi Serafini, Cherubini e Troni pregate per noi, Sante Dominazioni, Virtù e Potestà pregate per noi, Santi Principati, Arcangeli e Angeli pregate per noi, Santi e Santi Tutte del Paradiso pregate per noi, San Pio, Santa Faustina e Santa Gemma pregate per noi, Nostri Santi Protettori e Patroni, Anche delle case, delle città di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo, pregate per noi. E adesso leggo questa preghiera per chiedere a Dio che stermini il coronavirus, la leggo con calma affinché chi potrebbe e volesse, dopo la può ripetere. Nel nome di Gesù Cristo il Signore, stermino e caccio via da me e da tutto quello che mi può appartenere, tutti gli agenti patogeni, in particolare il coronavirus. Distruggo e caccio via da me e da tutto quello che mi può appartenere, il coronavirus. Nel nome di Gesù Cristo, coronavirus, ti stermino, dissolvo e ti caccio via in tutte le tue manifestazioni, in tutti i tuoi effetti. Ti stermino e caccio via nel nome di Dio Padre Onipotente, del Figlio Suo Nigenito Gesù Cristo e dello Spirito Santo Paraclito, affinché ti allontani con tutti i tuoi effetti dalla mia persona, dalla mia casa e da tutto quello che mi può appartenere e non resti in me e in nessuna cosa che mi può appartenere, ma vai via dove non puoi nuocere a nessuno. Te lo comando in nome di Dio Onipotente, di tutta la corte celeste che ti maledisce, affinché dovunque andrai tu sia maledetto perché possa ridurti in te stesso di giorno in giorno e possa scomparire in tale maniera che non si possano più incontrare superstiti in nessun luogo di te, coronavirus, se non quelli che potrebbero essere necessari per la salute e l'uso degli uomini. voglia così concederci colui che verrà a giudicare i vivi e i morti col fuoco. Amen. Ecco, questa prechiera chiunque ne può aver bisogno la può fare sia che sia che ne sono sacerdote, un laico, ecco, perché è fatta in forma privata, è fatta secondo, in piena comunione con la Santa Chiesa, con la Santa Chiesa Cattolica e quindi abbiamo fede che operando nel nome di Gesù Cristo, come dice il Padre Celeste, tutto quello che chiederemo ci sarà donato, come dice Gesù. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. E noi, Gesù, nel tuo nome, abbiamo chiesto che tu faccia scomparire il coronavirus e siamo certi che lo farai. Amen, Amen, Amen.